In quelli che ascoltano, la valora di Dio, e la vivono ogni giorno. Dal libro dell'Esodo. In due giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronia in terra d'Ugitto, questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Raele e dite, il 10 di questo mese ciascuno si procura un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà il vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre, e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'Assemblea della comunità di Israele lo immolerà a tramonto. Preso un po' del suo sangue lo porranno su due stipiti e sull'architrave di due case, nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne allostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano, lo mangerete in fretta e la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primo genito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti i dèi nell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove mi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi un raggio di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenni. Parola di Dio. Grazie a tutti. Il tuo carice, Signore, è dono in salvezza. Il tuo carice, Signore, è dono in salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che ne ha fatto? Alzerò il carice della salvezza e inoperò il nome del Signore. Il tuo carice, Signore, è dono in salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte di Sui figli. Io sono tuo serso e figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo carice, Signore, è dono in salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento. Involverò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo carice, Signore, è dono in salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo mostro mai cominci. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver preso grazie, lo spezzò e disse «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il carice, dicendo «Questo carice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al carice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli verga. Parola di Dio. Prendiamo la 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 parola di Dio. Grazie a tutti. Giovanni, la donna del Dio. La donna del Dio. La donna del Dio. La donna del Dio. Signore, tu la richiedi a me, rispose Gesù. Quello che ho fatto, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse il Dio. Tu non mi laverai piedi in eterno, rispose Gesù. Se non ti laverò, non avrei parte con me. Gli disse Simon Pietro. Signore, non sono i miei piedi, ma anche le mani in campo. Soggiunse Gesù. Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete bui, ma non tutti. Sapeva, infatti, chi lo tradiva. Per questo disse, non tutti siete bui. Quando ebbe lavato i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro. Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore.